buon pomeriggio a tutti quanti siamo tornati in diretta insomma retto dal casa delle farfalle e con me con me giallocco doremi sono venuto a trovarti essi siamo insieme in studio siamo qui per questo nuovo webinar sulle farfalle dei colli ugani spero si senta bene magari di quelli che si collegheranno qualcuno vedo che c'è già qualche collegamento ci dicono se si sente bene saluto veronica lunardi ciao a tutti buonasera ecco qua veronica allora veronica oggi parleremo di di altre farfalle abbiamo parlato dei papiglioni dell'altra volta dei licenili non abbiamo seguito un ordine proprio così sistematico abbiamo scatto di distribuirli un po anche per riuscire a tenere l'argomento in un tempo limitato e per far conoscere le farfalle dei colli ugani oggi facciamo vedere anche poi carichiamo qui l'immagine di partenza parteremo parleremo di alcuni ninfalide e di pieridi poi ci addentriamo ovviamente in questo percorso hai avuto riscontri no anche tu del luca del se visualizzazioni sì sì io ho rimesso il primo webinar nel mio canale youtube che si chiama macro natural world e ha avuto 140 visualizzazioni cosa che abbastanza buona in una settimana quindi speriamo di bissare questo successo quando abbiamo avuto veronica mi pare non una serie visualizzazioni tra siti facebook instagram eccetera comincia a passare questo messaggio è un percorso che cominciamo esatto sono presente è presente la registrazione sul canale facebook e anche youtube ecco e io faccio vedere poi anche qui nelle diapositive perché sono già caricate che questo progetto all'interno del progetto del parco regionale dei colli ugani che ringraziamo che ci ha accolto come stakeholder del progetto come sono che supportano butterfly arc e sta realizzando insieme anche per coinvolto un grandissimo amico e appassionato a luca daremi che avete qui nella relazione del documentario sui micromondi poi sono molti amici che ci seguono questa avventura dove andiamo a passeggiare a muoverci nel parco ea scoprire piccoli esseri poi grazie anche i nostri naturalisti che saluto lui sguarri ento luca bolognini beretta adesso poi si collegherà anche daniele eccetera e tanti altri davide apolloni aurora e saluto tutti ma sono veramente tantissimi e eva che ci segue anche nelle riprese che dirige un po la fotografia adesso il mio direttore della fotografia se non avessi poi avremmo modo le difficoltà di parlare possiamo veloce vediamo qui appunto questo progetto che comprende anche questo poi una scoperta che stiamo portando avanti vetro trovate tutte nel sito micro megamondo per il momento che siamo anche rifacendo e vedete che un'immagine poi del del taser è già possibile vederlo e poi dei link abbiamo messo sui naturalist dove potete tutti contribuire l'idea è quella di stimolarvi andare su ai cosi colli e fotografare anche altri vertebrati non solo farfalle e pubblicare le foto in modo che riusciamo così ad avere un compendio di tutte le specie che ci vivono con tanti occhi si va molto meglio e questo sono che tanti amici ecco eva che l'abbiamo citata ci sta salutando e la risalutiamo ecco anche qualcuno intanto che si collega conosco nel mio e nel gruppo di identificazione agli insetti fantastico e salutiamo tantissimo e poi appunto questo progetto di citizen science e qui vedete anche sui naturalist un'idea appunto adesso andrà aggiornata continuamente le osservazioni continuano a aumentare voi trovate mettete immagini perché come vi spiegheremo che più avanti ogni luogo ha dei suoi colori delle sue specie anche molte cose da scoprire sono veramente tante soprattutto stadi che ci conoscono poco forme o varianti degli stessi animali che sono importanti per la biodiversità e che caratterizzano anche un progetto di parco secondo noi ma secondo il parco sicuramente è un parco che è molto abitato molto compenetrato con gli esseri umani pertanto sta partecipando anche a diventare ma buonesco cioè man e biodiversity quindi trovare quell'equilibrio corretto tra l'uomo e ambiente ho cercato di dirlo in sintesi veramente non voglio annoiare oggi parliamo di pierde non so se tu volevi aggiungere qualcosa no hai già detto tutto direi benissimo allora intanto scriviamo veronica che si sta occupando anche di seguirvi sulle pagine intanto e ci mai ci farà viva per darci delle informazioni le pierde sono quelle che diciamo che la parte delle persone conoscono come cavolaie poi non cavolate diciamo cavolaie perché molte sono legate a brassica acce a quelle che siamo crucifere diciamo no come anche stessi cavoli e vedete già che vi do alcune indicazioni di antenne clavate che sono tipiche poi delle farfalle non è che sono esclusive però l'assenza di ocelli rispetto altre lepidotteli è proprio questo prendendolo alla larga perché gli insetti hanno spesso grandi gli occhi composti e poi hanno degli ocelli semplici ne hanno tre e questo caso l'assenza e poi come avevamo visto per le pifesi tibiali dei papiglioni che questa appendice che usano per pulirsi le antenne con la zappa anteriore nel caso delle 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 pierde non c'è questa appendice e le antenne sono approssimate molto diciamo da un spessimento vedete anche grosso a livello apicale e sono molto vicine nell'attaccatura nella testa e poi una cosa molto tipica anche dei pierdi questi artigli delle unghie diciamo delle zampine che vedete che sono bifidi sono strutture che hanno due destra che sinistra sono doppie ci sono situazioni che possono assomigliare un artiglio bifido ma sono altro che degli speroni che escono ma gli artigli principali in questo caso sono doppi quindi abbiamo imparato subito qualcosa e poi naturalmente chi conosce meglio sa qualcosa in più ci può aiutare sempre ecco c'è matteo galimberti che ci saluta e lo salutiamo anche noi buonasera e allora con gli ugani abbiamo fatto una checklist cioè una abbiamo raccolto tutte le informazioni state pubblicate sicuramente secondo me sarà sempre completa perché avremo sorprese lo dico già in quanto il cambiamento climatico il cambiamento che sta subendo l'ambiente anche in positivo inviterà specie nuove sicuramente a colonizzare quest'area e stiamo abbiamo già visto in alcuni casi allora io ho provato anche a darvi delle immagini così poco scientifiche ma molto più visive delle famiglie appunto sottofamiglie in questo caso di i pieridi e le pierine che siamo il nome quasi per persona pierino quelle più birbanti diciamo su quelle bianche verità anche vediamo le dismorfine a destra insomma anche però non queste alle allungate e peraltro hanno dei rispondenti tropicali meravigliose sono ma ne parleremo magari in futuro se abbiamo occasione ma anche un volo diverso hanno proprio sono più delicate come scritto il volo stesso di reggino fine molto più delicato rispetto a quello delle pierine che sono più veloci più dinamiche rispetto alle dismorfine certo di smorfine sono proprio veramente delicate in tutto veramente dei piccoli apparizioni quando le vedete e sono farfalle relativamente comuni ma anche in alcuni casi molto criptiche perché possono vediamo poi avere specie che si assomigliano molto che si stanno capendo adesso diciamo e cogliadine che sono quelle gialle ecco diciamo in generale e quindi abbiamo già fatto una prima distinzione e qui vedete appunto la famiglia della sottofamiglia del pierine che ha diverse specie la tocca di scardami la polecrotesi la presi brassice la pieris ed usa per i mani per queste quelle che si trovano sui colli e per il momento segnalate pieris nappi per il slap e ponti ed usa non mancheranno le sorprese secondo me qui ho già trovato anche già secondo me l'ho trovato altre specie che comunque potrebbero esserci o che stanno arrivando la una specie simbolo veramente bellissima qui c'è poco da fare è una dell'aurora anche un nome che si usa a dare le persone spesso queste farfalle qui c'è proprio una caratteristica il dimorfismo sessuale il maschio a queste caratteristiche macchie arancione sull'ala anteriore che lo distingue dalla femmina che è assente all'assenza di queste macchie è proprio evidentissima la differenza tra maschio e femmina non ad occhio nudo ecco proprio sì qui però peraltro ci sono specie che potrebbero essere confuse quando sono le femmine che non hanno le macchie arancio rosse eccetera visibili questo corallo lo chiamo io un po delle posteriori no assomiglia in altre specie proprio che abbiamo l'eucleusonia l'ho messa proprio come immagine per vedere un po anche le differenze vedete anche queste macchie sulle ali che la caratterizzano subito anche gli apici ovviamente no si concordi che proprio nel caso della femmina lì c'è la possibilità di farci anche se la cardamines farfalla molto presto e la usonia forse un po più avanti e più termofita se vogliamo si se ben ricordo anche le macchie scure sono più non sono così marcate nella femmina della cardamines esatto le vediamo anche qui poi nell'immagine anche se un po scura si vede proprio che le macchie sono molto più tenue rispetto a questa e abbiamo proprio il confronto io ho voluto portarvi queste immagini perché sapete delle volte equilibri e dovresti tagliare pezzi di libro tenerti vicino anche col computer fare un sacco il lavoro cercato di risparmiarvelo non metto tante piante ma in verità alcune che sono anche molto carine la lunaria che ci sono che si colli la liara pezziolata la cardamina e pratensi perché il bello andare a cercare queste piante perché si trovano i bruchi eh sì solo che posso dirti che dalle mie parti nonostante sia andato a cercare nei prati io devo ancora vederla dal vivo la cardamina non l'ho ancora trovata ma il bruco l'adulto sia l'adulto che il bruco sì però e qui sui colli per esempio stanno lungo i bordi più freschi dove cresce per esempio la lara dagliara pezziolata pezziolata è una specie che ha bisogno veramente più fresco sui bordi dei boschetti e lì per trovare i bruchi guardate intanto si vede la farfalla che gira e depone le uova e allora quello è il primo e poi sono veramente mimetici sì sono verdi sono mimetici e voi potete guardarli anche da vicino non li vedete loro stanno lì tutti belli dritti è una caratteristica delle pierine perché anche le altre pieri sono abbastanza critico difficile da vedere la caratteristica dei bruchi di non stare troppo dove si mangia vicino si spostano magari vanno di sera escono fuori e di giorno se ne stanno ben appiattiti contro la vegetazione è normale voglio dire quindi non disperati sono vivete subito fate attenzione meritano veramente e magari sulla pagina inferiore della foglia ci sono anche altre specie di antoccaris in italia l'aurora dell'etna la damone eccetera ce ne sono anche a nord però da noi c'è solo la cardamines insomma adesso la sennò bisogna andare o in piemonte o in calabria in sicilia ecco questa è un'altra specie molto interessante una volta era veramente molto comune ancora comune in zona di montagna è ancora una specie comune però collina pianura è già molto più rara pianura pianura e diciamo questa specie ha subito molto impatto dall'agricoltura che tende a limitare sulle rosacee la presenza di parassiti i meili per esempio oggi sono trattati altre rosacee ciliegie c'è tutte le piante sui quali può anche arrivare soprattutto prugni pruni eccetera quindi deve adattarsi su biancospino su altre rosacee dove trova situazioni favorevoli quando sforfalle una caratteristica queste farfalle si impuppano a fine anno passano l'inverno come crisalide e sforfalle uno sincrono tutte insieme tutte insieme quindi posso come si possono vedere veramente tanti vedete nella foto a destra tanti individui la mattina presto li trovate appoggiati a grappoli a grappoli è bellissima e poi un'altra cosa hanno un meconio rosso cioè la prima goccia di pipì di popò che ora così che fanno le farfalle pipì popò perché sono tutti insieme perché nella crisalide non c'è il bagno ricordo sempre poi modo ironico quindi devono tenersi durante la trasformazione tutto e quando escono la usano anche per difesa eccetera però un colore rosso è un tempo si pensava quando sono grandi infestazioni diciamo a chiamarla così quando i meriti ne hanno trattati ci fosse la famosa pioggia di sangue se le nostre goccioline rosse anche in epoche antiche chiaramente e bellissimo qui andiamo su un mondo un po più complesso che comprende diverse specie qui vediamo la più grande e la più termofila chiamiamo così il caldo che è la piere sbrassice e cavo chiamata cavolaia maggiore questa qui veramente un animale che si trova soprattutto nelle periodi più caldi lei migra oltretutto si sposta da sud a nord e quindi viene più facilmente a nord quando c'è più caldo fa fino a nord europa ovviamente anche molto lontano qui c'è l'evidente dimorfismo sessuale perché diciamo il maschio e la femmina differiscono per i punti neri il maschio non ha punti neri questo questo vi sono scritto maschio appunto maschio non ha punti neri mentre la femmina via ed è la femmina quella più difficile da identificare rispetto ad altre specie di pieris è anche una specie comune se avete in giardino nell'orto chiaramente delle brassicacea dei cavoli se avete piantate e non è l'unica perché arrivano sia notturne la ma maestra brasi se arrivano notuidi diciamo erebidi oggi ma la arrivano anche altre cavolaie minori ed è una specie sulla quale può capire come funziona anche il ciclo di una farfalla facilmente e capire quanto siano attaccate da parassitari di cominciano da insetti ma anche malattie batteriosi e virosi e uno tira su dei bei bruchi e dopo la fine scoppa che escono mosche o vespe si è già successo con altre specie come vedete questo abbiamo un po anche velocemente così vediamo che sono tante le specie che tratteremo questo è un altro animale che ci assomiglia molto no però vedete qui abbiamo messo delle sopra la pre pieris manni è più piccola della cavolaia maggiore può ricordare la cavolaia minore attenzione perché le dimensioni degli animali non sono sempre costanti in grande non molto qualcuno che ha mangiato poco può uscire anche veramente molto piccolo sì ma di solito c'è un range in cui si adattano abbastanza valido che è quello che abbiamo anche scritto qua come apertura l'area ed è quello che a volte le aiuta a distinguere ad esempio la brassica dalla mani già la dimensione è notevole però quella che si può quasi si può confondere la pieris rape che ho messo già in anticipo qui e ho messo già anche due caratteristiche la macchia scura apicale più ridotta e le macchie sono più circolari mentre se guardate la mani sono molto rotti i margini siamo una stellina quasi se la guardate bene l'immagine del puntino e anche gli apici sono più ridotti eccetera la punta delle ali anteriori l'apice è un po diverso la troverete adesso bisogna diventare un po più bravetti a riconoscere si vuole sempre tempo qui siamo ancora sulle cose facili per anche se questa non è facile non è facilissimo non è facilissimo eccola eccola qui la rape che l'abbiamo vista prima in anticipo anche qui c'è di morfismo sessuale più difficile da essere è più difficile da vedere come mai è bene perché la macchia scura tonneggiante e poco definita mentre sono un po più meno evidenti però non è facilissimo vederla anche qui vedete i bei bruchi verdi questi sono verdi e sulle foglie del cavolo non riesci a vederli se non li vai a cercare e poi le venature sul modo in cui raggiungono i margini da stati attenti a questi dettagli qualsiasi libro se io posso farvi vedere anche dei libri e anzi vediamo se il sistema qui di telecamera un secondo ve lo fa vedere anche meglio faccio vedere alcuni libri vedete scusate che c'è questo effetto croma che mi sposta lo tengo vicino così di questo libro sulle farfalle che non si trova più peraltro questo un vecchio libro ma trovate nuove edizioni farfalle d'europa anche tu ecco qua così mi aiuti tienilo avanti tu perché ho tu ecco sì ecco qui abbiamo tanti libri qui ne abbiamo anche le farfalle delle alpi che ho trovato molto interessante ben ben anche se ne sono tanti testi mi ha un po deluso un libro recentemente pubblicato da torino e firenze sui palocceri veramente scritto un po così allora fin tanto che noi parliamo anche dei libri e ritorniamo alla nostra presentazione vi presento anche daniele beretta che si è collegato con noi ciao daniele ciao ciao ci siamo benissimo ci siamo in diretta con te e lui è tanto non tu non sei un professionista facciamo veloci perché poi diventa magari poi noioso però interessante perché tu non sei un entomologo come noi dedica la mattina sia però tu sei un entomologo perché da anni raccogli studi farfalle eccetera della zona e poi nostro no certo un grande soddisfazione passione però molto appassionato non dopo una segnalazione strana che ha visto caraccia daniele ha scoperto il caraccia sui colli ugani ed è lui che è partito il lavoro infatti è il porto il nome come primo autore anche della ricerca che poi abbiamo lavorato con lui luca eccetera proprio perché ha avuto questo merito di accorsi del primo che c'è una popolazione stabile sui colli dopo ci arriveremo ecco daniele ti teniamo qui con noi se vuoi intervenire ti tengo aperto l'audio con noi c'è anche veronica che ti risaluto ecco qua che salve buonasera nella sua tesi di laurea ricordiamo con il stai ferrara sta seguendo questo citizen science e sta andandosi da fare appunto per seguire il progetto ritorno spera veronica che sta occupando anche di vedere i contatti nella diretta e continuiamo nella nostra se ti senti di intervenire su qualcosa intervieni pure continuiamo il nostro percorso siamo alle pieridi siamo andando avanti e qui vediamo la pieris napi tutto l'elenco delle specie che troviamo sui colli questa si riconosce facilmente per le nervature almeno la prima generazione la terza incomincia ad averne già seconda e terza cominciano ad avere già meno spolverature grigie possono essere confuse e poi la brione che non c'è da noi però no e però vedete che ho fatto il confronto anche per avere un po l'idea del cambio di colore che ha nelle venature no più marrone eccetera più verdastri insomma sono cose che poi chi le non so se daniele pratica di queste specie la bionia sì 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 è una bellissima farfalla che si trova in quota la napi invece la napi si trova più a un livello più basso ed è una bellissima ci sono alcune popolazioni che sono anche proprio belle da vedere molto gialle molto cariche per esempio vedremo poi che l'influsso dell'ambiente è proprio su questi colori non solo l'ambiente come clima ma anche l'ambiente cosa mangiano e queste sono come dice il nome appartiene al gruppo delle brassicacee specialmente il cavolo il cavolfiore le piante le crucifere no che sia anche l'etropeulum che noi possiamo coltivare in giardino se qualcuno ha la mangiardino in montagna e potrebbe diventare anche per le altre specie che la mente tropeone anche utile a tenere in orto perché limitante di alcuni festanti sì questa comunque anche una delle prime chiede di comparire tra l'altro la napi è una delle prime che si vede perché compare già nel mese di marzo mentre le altre arrivano già ad aprile maggio a parte la pieris brassic e che ecco ripeto non facciamo confusione tra l'immagine di destra che la napi quella estrosi collugane e questa che abbiamo voluto mettere che ci assomiglia che vive in montagna come diceva anche daniele un altro animale veramente interessante che poi anche altre specie che ci assomiglia ma qui si colli c'è praticamente per il momento solo lei ma mi aspetto sorprese è la pontia pontia ed usa a delle delle stimi specie simili da ponti ad apri dice che però si può trovare solo in sardegna e liguria e poi in piemonte nel passo piemonte ecco e che dove sostituisce diciamo poi c'è solo una di queste si imbri da non sostituisce o si trovano entrambe quindi capite la complessità anche di poi classificare questi animali e la difficoltà anche poi l'importanza di capire quali sono per capire la biodiversità qui entriamo entriamo un'altra sottofamiglia che sono le cogliadine e qui vediamo diverse specie di colies quelle gialle ho fatto vedere all'inizio il gruppo delle gialle più le gonepteris e cleopatra e ramni per il momento sui colli ugani avevamo segnalazioni di cleopatra antiche che era segnalata anche in altre parti in veneto eccetera ma poi verso il garda mi pare ma poi adesso da un pezzo che non se ne va più ma col cambiamento climatico ci aspettiamo che tornino perché più che lo amano molto di più gli ambienti caldi chiaramente che troviamo al centro sud ed ecco la prima il primo degli enigmi gialli volanti perché hanno tutte queste variazioni no sono polimorfiche la collia alfa cariensis che può essere confusa in quel caso con la collia scrocea perché ha delle forme più chiare vedete qui la crocea elice e poi devo dire su queste nomenclature daniele magari tu illuminaci anche gianluca c'è molta confusione nelle pubblicazioni una volta si chiamava australis per esempio sui libri di ikings e di tolman le trovi ancora col vecchio nome però sono tutta un gruppo enorme nella nostra zona diciamo nord del nord globo sono una varietà di farfalle impressionante tutte molto somiglianti quella che assomiglia più vicina diciamo questa è la iale da noi accoglia sia vediamo vediamo se riusciamo anche qui c'è la crocea la crocea e ci dovrebbe pensare tra maschio e femmina è la forma chiaramente più chiara e esistono le due forme praticamente poi sono molte di più in verità si andiamo in canari e andiamo ad altre parti hanno delle variazioni anche incredibili poi la cosa interessante eccole qua ho messo questo messo una pubblicazione polimorfismo incoglio scrocius nelle azore per esempio vedete queste scure non sono forme scure sono viste agli uv perché le farfalle anche dei colori che noi non vediamo che sono percepite da loro e che sono importanti nei maschi per farsi vedere vedete queste marche più chiare nel maschio le fieridi andrebbero tutte viste agli uv perché vedete un altro fatto daniele che è interessante diciamo prima la selezione sessuale e l'energia sono queste queste questi due piccoli grafici blu e righe che si assottigliano hanno valutato la quantità di azoto che possono assumere dalle piante queste vanno su leguminose fondamentalmente uso questo termine che poi ci possono chiamare queste famiglie anche in modi diversi ma è la lunghezza della lunghezza del giorno e le temperature fredde vedete le variazioni queste questo mix di fattori genera tutti una serie di colori e di adattamenti di queste per fare quindi diventa complicato no si si diventa veramente difficile poi dopo quando uno si appassiona riesce anche ad andare a a vedere queste variazioni che poi in isole come le azzorre per esempio che sono lontane dal continente fanno tempo a diciamo così a fare quasi sottospecie o popolazione ben diversa da quella che si può trovare in altri territori più dove sono farfalle che migrano si muovono grande velocità magari in territori aperti come da noi in europa sostanzialmente sono quasi uguali sì perché la genetica si distribuisce bene si rimescola diciamo i geni mentre di là si isolano ecco il bimorfismo sessuale oltre dalla forma dell'ala è dimostrato dalle macchie sulla banda nera dell'ala anteriore le macchie chiare sulla banda nera dell'ala anteriore se sono presenti è una femmina se non sono presenti la banda nera è uniforme è un maschio queste macchiette che vediamo quindi qui sull'ala anteriore sull'ala anteriore quelle qua queste qua sono tipiche della femmina ecco qui fatte sono segnate come femmina e queste sono segnate come maschio e lo si vede in trasparenza perché di solito quando sono appoggiate hanno quasi sempre le ali chiuse si è vero non sono velocissime poi chiaramente cogliere da lì aperte che abbiamo la avevamo citata prima no laiale è quella che dove è più difficile la diagnosi differenziale con l'alpacariensis però questa ha l'ala più appuntita cioè meno complessa io l'ho indicato con la freccia se vedi le macchie diciamo quelle vicino al quelle scure vicino all'attacco dell'ala più ampie e le macchiette gialle dell'area posteriore più sbiadite meno prima domanda che ci arriva da pierpaolo te la faccio vedere dice avrei una domanda la forma elice o elicina sono sinonimi lo so che una domanda difficile non è una domanda difficile sono diverse la forma elice quella classica se tu torni indietro nelle due diapositive prima ancora indietro eccola qui la forma elice è tutta con il colore diciamo più verde chiaro la forma elicina ha delle macchie gialle cioè delle sfumature gialle che la fama che sembra un incrocio tra la forma chialla e la forma più verde la forma elicina quindi è diversa dalla forma elice grazie abbiamo risposto al volo quindi qualcuno che ci segue in diretta ci fa molto piacere anche per questa specificazione tu sei ovviamente un esperto attento proprio questi dettagli perché altrimenti non si riesce poi riconoscere differenze tra le specie sentiamo maurizio e per paolo che sono appena collegati che hanno scritto fantastico allora qui abbiamo un altro animale bellissimo perché parliamo della cleopatra che da noi c'era segnalata ma non c'è più potrebbe tornare col maschio con la famosa marchietta più colorata e arancio e la femmina invece verdolina come se ci vedremo poi per l'altra specie la ramni tutte e due queste specie hanno una caratteristica a parte le piante nutrici che sono le stesse rammace la rammus frangola frangolanus eccetera ma hanno una vita particolare sono molto longeve tecnicamente teoricamente come adulto perché stanno in giro un anno praticamente tra estivazione e svegliamento possono svegliare quindi tu li hai viste qualche volta d'inverno nascoste da qualche parte daniele allora se queste le trovi nell'edera spesso e volentieri se hai la fortuna e si possono trovare incastrate sotto le foglie e sembrano delle foglie bisogna avere un po di occhio quindi tu sei riuscito a vederle tra l'edera sei riuscito a trovarle vanno a nascondersi in mezzo a questo folto diciamo protezione dell'edera che attorno agli alberi tronchi certo la cosa più bella della ramni questa è la ramni che è diffusa anche da noi mentre quella sotto è la cleopatria e la riconosci per la banda gialla dell'alberi anteriore inferiore le due sopra sono le ramni quella segnato allora la cosa bella è che la parola butterfly deriva da lei farfalla di burro deriva da questa farfalla nel nord europa in particolare in inghilterra non c'è la cleopatra ma c'è questa e pare che il nome butterfly deriva proprio da questa farfalla è gialla giallo qui c'è sempre questo approccio sai linguistico che delle volte può essere anche sviante perché realmente non è che io ti contesto questo perché c'è scritto ovviamente è riportato però in verità sai che l'inglese è una lingua anglosassone e farfalla in tedesco si dice smetterling che l'antico pussiano ha un'origine che vuol dire smet e lecker vuol dire fatto strega che va a rubare il latte che va a leccare il latte il burro allora ecco questa è un'antica credenza che non è un mobile e che penso sia all'origine proprio della della che veramente poi ispira anche come dicevi tu il colore eccetera the butterfly perché effettivamente troppo corrispondente all'antica radice diciamo quindi è ancora discussa sta cosa secondo me ci cambia poco le teniamo tutte e due buone concordo c'è però ce ne sono ancora delle altre poi di storie però è interessante che questa farfalla come tante altre sono nella storia cioè quando pensi alla farfalla la pensi o bianca o la pensi gialla non ti viene mai di pensare a una farfalla non so complessa strutturata come potrebbe essere una polizena come potrebbe essere già il maca o vero però stiamo facendo un po un web per chi anche non conosce le farfalle quindi quando dici polizena ma dopo l'avete dopo l'abbiamo visto l'altra lazerinzia l'avremmo parlato la volta scorsa per te è facile magari qualcuno lazerinzia è un piccolo papiglione è meraviglioso che rispetto piccolo rispetto agli altri perché non sembra la farfalla di una certa dimensione che è molto localizzata in veneto anche da altre parti e sempre preferisce ambienti molto particolari sulla lazerinzia così chiudi che parlavi del meconio rosso lazerinzia è un meconio rosa la rosa intenso ecco però oggi parliamo di cavolaie per cui andiamo alle dismorfine che è l'unica è l'unica che ci sta non è l'unica perché in realtà tra reali e l'uvernica sarebbe l'abbiamo solo sì però si guardi se leggi il testo noi l'abbiamo citate qui però adesso bisognerebbe capire se sui colli ugani tu hai idea se c'è qualcuna di oltre oltre la sinappi se c'è qualcuna delle altre perché questo è il tuo messaggio per i futuri diciamo naturalisti che si danno da fare vediamo approfondire questo aspetto se sappiamo che la l'uvernica si trova in val di togo che abbastanza vicina vicino al monte summano nella valle che va verso l'acqua del vicentino quindi non sarebbe neanche lontanissima potremmo potrebbe potrebbe essere studiato se si trova nei colli sicuramente comunque la sinappis è molto diffusa nei colli ugani ecco quindi al prossimo daniele che i nostri naturalisti giovani o chi vorrà aggiungersi eccetera se vorrà approfondire questo aspetto cerchiamo di capire se c'è più di una specie sui colli ugani di leptidea io intanto chiudo questa parentesi con le piedi perché poi dobbiamo correre per stare anche nei tempi e andando abbiamo fatto la prima mezz'ora perché abbiamo adesso le ninfalide le ninfaline vediamo appunto nelle ninfalide abbiamo preso le ninfaline intanto vediamo una serie di nomi che possono dire poco ma adesso li approfondiamo e abbiamo la glice urtice che era la vanessa dell'ortica una volta le chiamate così la glice io che una volta l'inacchisi o la vanessa io perché capite i nomi una volta o le vanesse ecco largini spafia la meritea taglia metea di dima meritea febbe la poligonia c album bellissimi nomi e gea la vanessa opalanta la cardui e la policloros io ci aggiungerei anche l'antiopa che mi ricordo da piccolo di aver visto ed è segnalata in veneto lungo i corsi d'acqua i sanzetti eccetera però torni visto che i boschi stanno tornando sei d'accordo daniele sì io anch'io l'antiopa quando ero ragazzino mi ricordo di averla vista ma poi da molti anni non l'ho più reperita quindi spero che prima o troppo torni anche se in tutto l'aerale la che è basto l'antiopa sta sparendo sempre vero allora dobbiamo dire due cose uno che le zone umide hanno avuto una bella batosta è anche molto rovinate che lungo risponde di fiumi eccetera qualcosa sta tornando indietro ovviamente un po alla volta i colli ugani erano molto più messi male anni fa e petto adesso è stato non di boschi che ci vorrà tempo prima che torni a boschi umidi eccetera perché sono molto aridi se no e poi c'è stata la crisi dell'olmo che è stato distrutto dalla malattia che era una delle piante importanti anche per l'antiopa in alcuni spazi oltre che i salici effettivamente o le betulle ecco che da noi non ci sono e questa è una delle cause probabilmente che ha portato a sua riduzione però il cambiamento climatico è una farfalla che ama anche dopo la vedremo è i climi anche possa essere molto freddi effettivamente anche l'aumento di temperatura non la favorisce tantissimo ecco qui la prima meravigliosa quella che ci appassiona tutti anche da piccoli è adesso impossibile non celebrarlo ogni volta che la vedi è un gioiello st'animale qui bellissima farfalla e la cosa interessante dal nostro punto di vista è che è una farfalla che ovviamente non ha sottospecie non ha variazioni è una grande volatrice la si trova praticamente identica in qualsiasi parte del mondo dove vive anche se in sardegna c'è l'ichinusa l'ichinusa è un aglai sottice però ma anche in sardegna non è più scura la io anche lì non è una forma variazioni di colore ma ok e allora qui la vediamo questa normale benissimo vedete la differenza lì chiuse ad lì aperte poi una scena devo dirti che ho visto proprio chiaramente con gli occhi perché sai è sempre facile dire quei grandi occhi servono per spaurire i predatori poi la scienza deve dimostrarlo però non è che basta dirlo io l'ho visto con i miei occhi ho visto la io appoggiarsi sulle rocce dove abbiamo i laghetti anche lei la casa farfalle è pieno di lucertole lei stava lì con l'aria verde quando le lucertole sono avvicinate l'hanno vista per cacciarla lei ha aperto le ali due certe hanno fatto un salto indietro sono scappate ecco subito la dimostrazione che quei grandi occhi sono intimoriscono sono disegni ovviamente per chi non è pratico non scambiate di però chi vedi mi raccomando perché magari chi non è pratico gli occhi sulle ali per successo di vedere di tutto è scritto anche in internet anche di siti che spazzano per esperti come disinfestazione animali abbiamo viste in tutti i colori è che le libellule c'hanno le trachee che spuntano sulle ali diciamo per respirare no calabroni anche però lasciamo stare queste cose che compaiono compaiono questa qui sono disegni che sono frequenti nelle farfalle anche altri animali e servono per difendersi e questo questo ho voluto farlo non c'è non è scientifico lo so però gli scienziati quando mettono i nomi si divertono e l'inachis io qui vedete la dinastia tutto delle divinità greche in accus meglio zeus che era un dio che sei incrociato con io che era invece mortale tutta la tecnologia è stata pregio ho fatto alcuni esempi poi se andiamo a cercare in mezzo ci sono ino certo sono tutti nomi stati usati dagli entomologi anche più volte per dare nomi a generi o specie di farfalle l'epafus qui vedete la io la callima in acus la danaus plexipus o crisipus l'idea ipermnestra eccetera oppure anche questa insomma sono tutte vedete come nascono anche un po i nomi e fantasia chiaramente che si attinge alla mitologia a volte c'è anche l'attinenza e sulla capacità della farfalla diciamo di fare certe cose della sua forma però e la fanti nomi sono di fantasia eccola quale l'autice e che si differenzia dalla policloros e la cosa che citavamo prima l'iclusa che si riconosce perché non ha i puntini neri sulla superiore anteriore ecco quindi abbiamo questa sottospecie che sta anche in corsica comunque no? esatto certo quella si potrebbe ma c'è chi la dà per specie buona anche se si può incrociare con la con la normale ottice e isolato diciamo in un clima diverso isolata ha cambiato colore non è probabilmente una vera una vera specie forse neanche una sottospecie però però daniele e gianluca la la differenza allora la policloros è più grande con gli ugani è più comune la policloro in primavera ci sono interi alberi ricoperti è uno spettacolo oltre a svermonte e anche migrante io lo trovo spesso chiusa ma guardate ho trovato le policloros a villa beatrice sui porti con gli ugani nello sgabuzzino più nascosto della villa che deve fare passare sotto tre porte lei riesce a farlo è bravissima si appiattisce però va a cercare il posto umido buio nascosto per svernare è è una bravura che ho viste anche in attività in campo alla sera che che delicatezza svolazzano e cercano un buchetto nel terreno lo esamina poi si chiudono dentro chiudono le ali e salutano tutti e si mimetizzano fino agli anni 90 dagli anni 90 del secolo scorso ha avuto un declino e non è facilissima da incontrare una volta in montagna era comunissima ha avuto un declino alla fine del secolo scorso praticamente adesso è più facile incontrare la glass io o la policloro ma non è solo la spalizione delle maghe scusa delle ortiche perché in alcune parti ci sono maghe ortiche e lo stesso è declinata ne ho visto adesso quest'anno ne ho viste di più in certi posti forse qualcosa sta succedendo perché vanno a periodi probabilmente no e seguono la dice sono d'accordo anch'io ultimamente allora la policloro si trova mentre la policloro aumentata direi fa fatica a vederla più di un tempo mentre una volta era quasi infestante cioè c'era dappertutto adesso si trova meno concordo l'ortice si ha preso una bella bastonata eppure era considerato veramente la farfalla comune e qui abbiamo la policloro certo vediamo che il bruco mi ricordo una scena molto bella del sistema difensivo dei bruchi che loro colonizzano piante o di rampicanti o di piccoli alberelli e vanno sempre su alberi piccoli di solito a fare le uova e i bruchi hanno un sistema difensivo che ho già visto in altre specie che percepiscono il ronzio dei parassitoidi che arrivano delle delle vespe eccetera e si muovono sincroni se voi battete le mani create rumori babà loro saltano alzano la testa in sincrono perché cercano di difendersi da chi vuole deporre le uova è bellissimo spettacolo sembra quasi una cosa da walt disney per sembrare più grandi sembrare un unico organismo molto più grande quindi essendo gregari perché non abbiamo non l'ho detto sono gregari molte vanesse no daniele a livello di bruco sono gregari all'inizio la io sicuramente e anche la policloro e la ortice stessa e la ortice ovviamente sì e mentre vedremo poi queste qua invece più difficile vederle e qui siamo con la c album che si riconosce proprio per questa c bianca oltre altre caratteristiche vedete ma chi è insomma questa colpisce no questo disegnetto è bello evidente sull'ala anche questa è una specie che ha delle sue variazioni notevoli di colorazione con la stagione pagina inferiore soprattutto che può avere tante colorazioni dal verde scuro al nocra più chiaro e hanno tutte dei nomi ovviamente non stiamo a citarle però il direi sono generazionali dipende dalla generazione queste possono arrivare a averne tre di generazione in un anno e hanno delle colorazioni che cambiano quindi anche per quel motivo per questo questo mimetismo disruptivo cioè quello di rompere la forma quando chiudono le aree sembra mangiate no le ali un po la foglia secca si ma proprio veramente anche rovinata questa le rende estremamente mimetiche d'inverno queste svernano sempre come molte altre vanesse molte altre vanesse svernano tanto che anche la io si vede volare d'inverno facilmente una volta era più comune la io adesso meno si vedeva nelle giornate soleggiate di gennaio potevi vedere svolazzare la vanesse io ce n'è un'altra che dobbiamo ancora vedere che è questa aumentata di più ancora adesso come adesso la vedremo dopo questa è la poligonia gea che questa è sempre data così come marginale legata forse all'andamento più caldo è più costiera questa no daniele ecco ma la cosa strana di questa per farla è che sui colli non l'ho mai vista però l'ho trovata in centro a shopping shopping e addirittura ho trovato le crisali di questa in un telone verde incredibile quindi cosa che l'ho fatta segnalata sulla come si dice la pianta parietaria quella che infesta in non è più facile trovarla dove ci sono rovine che piuttosto che nei boschi per esempio sul ceva ci sono delle zone boscose pienissime di parietaria alta fino a un metro però lì non riesci a trovare io che abito in zona costiera però è tutta zona diciamo moderna con parietaria non c'è non l'ho mai trovata e vabbè allora dobbiamo aspettare che arrivi anche lì col tempo quando maturerà l'ecosistema e allora vedete anche qui due segni questo l'ho girato a forma di l solo poi c'è anche sono tante altre differenze i punti di colore eccetera però diciamo si riconosce abbastanza facilmente subito così vediamo poi la parietaria effettivamente uno deve ricordarsi anche di riconoscere perché chi allergico la pianta che ha preso un sacco di polline è un po attenti e ecco la mitica questa grande anche spostamento però ormai stanziale direi che da noi col caldo e la si vede a gennaio anche questo non fa abbastanza freddo diciamo in centro italia si trovava a ciclo continuo larve adulti crisali da noi sta cominciando anche lei anche qui ormai a essere presente d'inverno tranquillamente che io l'ho vista gennaio questa in pieno gennaio una giornata di sole l'ho vista volare fino in trentino lungo i laghi anche caldonazzo che sono posti proprio caldi lì sti animali sono già attivi no anche giornate di sole non li abbandonano anche tu no daniele avrei visto strano spettacolo anche quando vola questo è un jet che si mette con le ali aperte e pula radente è veramente uno spettacolo questa bella bestia il maschio territoriale tra l'altro attacca qualsiasi cosa si avvicina può essere un uomo un uccello qualsiasi cosa gli va addosso però mi dico per l'esperienza se lo convincete vi muovete piano avete alcuni accorgimenti eccetera a un certo punto vi adorerà perché diventate il suo trespolo sì a questo punto non vi abbandona vi si appoggia addosso addirittura dopo un po' comincia a girarvi attorno vi studia sembra che non vi faccia a caso fateci attenzione perché lui continuerà a girare vi guarda vi passa vicino e va via dopodiché si appoggia è straordinaria diventa diventate il suo luogo diventate se siete al sole poi in una zona esposta protetti da una parete abbiamo a questi spazi di circa 7 8 metri di insolati è stato studiato molto bene l'atalanta però è molto interattiva per cui è bello fare questa esperienza questo animale e io metto la punta di domanda perché come abbiamo detto la facciamo anche vedere no la facciamo ritornare lo chiamano perché sembra con lo scialle attorno alle ali ed è anche questa meravigliosa diciamo una cosa anche dei suoi colori dopo che ha svernato come cambiano intanto è più facile vederla svernata che fresca di prima generazione appena nata e quando la trovi appunto svernata è sbrindellata sbiaditissima è facile vederla così infatti i bordi sono quasi bianchi diciamo sporchi spasciati c'è quasi bianca e invece quando è fresca ecco stiamo parlando di giugno luglio diciamo le trovi belli gialli intensi i bordi non intensissimi però i colori sono molto vivaci ed è vellutata poi è un colore veramente vellutato ed è grande ed è grandissima questa è una farfalla che può svernare anche in grotte in buchi eccetera e può resistere a meno 20 gradi di temperatura quindi capite perché anche forse tende a ridursi lei ama se andiamo a nord e chiaramente aumenta la sua presenza di un ricordo stupendo perché la mia è la prima farfalla che ho fatto nascere da brucco crisalide e adulto avevo 12 anni però si è riuscito a trovare la pianta dove stava il gruppo è rimane da vostra ma non vanno che non vale e adesso a trovarle già su betulle su pioppino so star su diverse piante piccole sempre ai bordi dei boschi non stanno dentro il bosco io ero ho trovato mele non mi risulta che le mangio no no infatti parte ci sono sempre sorprese sapete poi le farfalle ci sorprendono perché qualche individuo può decidere di cambiare piante e anche farcela è molto bello anche il brucco per esempio la policlorus che abbiamo citato prima la vanessa multicolore io l'ho vista sulla clematide ed è sviluppata perfettamente ha fatto delle crisalide quelle rampicanti che si vedono sui colli insomma la clematica è il minimo aglamentale la pianta più infestante che abbiamo sui colli forse non ha spine per fortuna no era usata da una volta dai mendicanti per farsi delle piaghe se la prendete in mano strofinate c'è attenzione perché ha una linfa abbastanza così che crea erano finte piaghe in pratica non si creava per farsi per prendere le lemosine queste storie anche delle piante perché le farfalle poi assumono queste sostanze nel loro corpo e spesso lo usano come difesa questo è veramente uno dei miti è una farfalla siamo celebriamo la farfalla monarca in america e abbiamo la nostra farfalla migrante una delle più importanti la forse molto superiore alla monarca come capacità di migrazione si è stato l'anno un anno di migrazione importante il 2022 c'erano ovunque in qualsiasi qualsiasi quota in qualsiasi posto tu andassi c'è stata una ci sono invasioni periodiche quando piove sta piovendo molto in nord africa vedete che corrisponderà poi intanto saluto una persona straordinaria come alessandro sensidoni che ha scritto un libro bellissimo dove mette insieme ecologie e piante eccetera io ce l'ho qui e non so se si trova più e lui dice molti bruchi stupendi in ubria quando era un bambino riferito provente alla vanessa antiopa che abbiamo visto sensidoni cercatelo è una persona straordinaria che fa delle cose bellissime dipinge anche benissimo oltre altissime attività e lo salutiamo tantissimo alessandro e la vanessa cardui come dicevo fa queste immigrazioni arriva dalla spagna poi c'è che attraversare il mare eccetera invade letteralmente l'europa ogni anno parte che ormai da sud è anche stanziale in alcune situazioni qui faccio vedere uno studio che è stato fatto anche in america fa questo e vedete la migrazione che addirittura in alcuni casi parte dalla zona sub sahariana quindi a tra alcune popolazioni si è visto che attraversano il deserto del sahara per andare arrivare fino in illiterra nord europa pensate questo piccolo animale meno di mezzo grammo di peso cosa fa e poi torna chiaramente chiaramente e noi non la vediamo la migrazione di ritorno facilmente perché cambiano velocità cambiano modo di volare e stanno molto più alte si fermano molto meno diciamo però quando c'è la migrazione anche in andata puntano tutto verso nord est un po le vedete passare in volo rapidissimo e con questa vita relativamente breve poi non so come fanno a farci dove trovano a deporre chiaramente si muovono e le pongono loro uova e lasciano è una specie di colonizzazione la prima migrazione un ritorno proprio migratorio e qui andiamo nel caos c'è bellissimo caos perché sono meravigliose solo alcune specie perché sono molti di più i generi melitea chiaramente e melicta vedremo poi eccetera qui ho messo qualcosina per destricarsi un po al volo magari di se vi corrisponde qui abbiamo la melitea a taglia quelle che sono sui colli ugani la melitea di dima e la febbe io sono convinto di aver trovato anche la trivia e forse qualcos'altro però andremo poi approfondire questo aspetto non so daniele stue esperienza di altre specie sui colli da noi queste farfalle qua ci sono tutte e tre ma io la trivia nei colli non l'ho mai vista allora vanno a cercare le vecchie foto perché ho delle foto andremo a verificare devo avere il tempo di cercare le vecchie diapositive addirittura io non l'ho mai vista però per carità magari no 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 è una provocazione la mia perché ci sarà da guardare un po ancora secondo me però bisognerà muovere di nuovo i naturalisti perché proprio sui colli secondo me c'è la demarcazione fra talia e c'è la bussa le due cose certo certo hai ragione bravo perché secondo me potrebbe giusto esserci se non ti avevo dato un assist infatti per tirarsi fuori della storia allora vediamo un po disegni trasversali neri continui che delimitano le aree arancio questa è la taglia vedete queste lighette che scendono giù che sono meno marcate così nelle altre specie mentre la didima ci sono tanti altri caratteri ovviamente una sfumatura basale nell'astra però che c'è anche in altre e serie di puntini su marginali neri questi puntini qui poi chiaramente macchie post di scali in questo caso vedete lo separate anche come come immagine a parte gialline nell'area con la macchietta arancio ecco queste sono intanto delle per darvi un anticipo ecco andiamo vederle però in dettaglio la meritea taglia vedete anche i bruchi che si trovano facilmente in questo caso su varie piante erbace il prantago scrofrullare si trovano sono bellissimi bruchi sono hanno dei disegni colori queste spine coniche con altre spinetti eccetera non sono orticanti assolutamente no e si trovano facilmente facendo sicuramente adesso sarebbe la stagione giusta per trovarli anche no sono già presenti in questo periodo la taglia ecco che vediamo la foto in questo caso della coppia si può distinguere da dalle altre per questa doppia riga sul bordo sul margine dell'ala che di solito quella più proprio queste doppie righe che vediamo questo binario da treno diciamo ecco che fa la curva aiuta a distinguerla da altre specie e questa è una dritta importante se avete altre dritte per riconoscere al volo perché sapete che sono se no bisogna andare come al cielo a dussa sono distinguibili a livello dei genitali qui ci vuole lavoro dei nostri naturalisti al microscopio era quello che dicevo che vediamo se o è a tale o c'è la bus è un po un po la spia sezionale purtroppo ma per capire l'importanza di capire appunto la distribuzione di questi animali già fare anche quello per il momento quando si va con la genetica e qui abbiamo la di dima invece vedete che bell'arancio punti meno o meno importanti diciamo che mentre le altre melitea hanno una sorta di reticolato nero sull'ala esterna qui il reticolato non c'è ci sono solo delle macchie quindi è una delle più distinguibili dall'ala esterna ecco vediamo tanti amici che senza batteria nel telefono che stanno seguendo ci salutano comunque noi li salutiamo penso io vi devo lasciare vi ringrazio ci sentiamo la settimana prossima ma assolutamente sì grazie perché sei collegato non voglio fare spoileraggio privacy ma sei a palermo si può dire no per un convegno il bello di avere questi sistemi possiamo trovarsi anche a distanza grazie daniele sentiamo prestissimo ciao grazie allora grazie a mangiare ci ha dato già subito un'idea anche di cos'è anche avere un'attenzione una cura da studio di chiese ma riconosce molti dettagli andiamo continuiamo con questo mondo di queste frittillarie minori le chiamano no in inglese e noi ci danno l'idea lì nulla le fritto le connessiamo noi con le rettillarie no però diciamo è forse difficile quelle piante vedete qui il carattere distintivo invece della fede che si trova in queste macchie arancio su un fordo un po giallino sporco no giallastro che visto da vicino poi un po meno efficace ma questa è una caratteristica proprio si è la sua e non abbiamo altre indicazioni sono tutte farfalle ve le diamo queste indicazioni per poterle distinguere poi se riguardate di solito si riesce a distinguere dopo averle fotografate difficile ad occhio nudo perché si muovono raramente si lasciano avvicinare troppo però però fotografandole poi si riesce a il messaggio è fotografiamole anche le ali inferiori non sono superiori perché così diciamo a capire chi sono invece poi vedete la qui le appaturine noi abbiamo sui colli solo la ilia per i salti montagna trovate che la ili più grande più scura non sempre perché anche la ilia può essere molto scura e andiamo a vederla perché un animale splendido vedete qui proprio una forma scura una forma chiara il maschio è iridescente cambia colore a seconda dell'angolazione da più scuro diciamo non non iridescita viola addirittura è la nostra farfalla tropicale perfetto anche la ilis spettacolare che non c'è sui colli ugani sono specie collegate ai pioppi e ai salici pioppi tremoli eccetera è molto legata alle zone umide adesso arriviamo comunque anche ai piedi dei colli nelle parti più a nord dove sono le zone più fresche perché le stesse piante a cui è legato hanno bisogno di terreni umidi perché altrimenti abbiamo zone anche paludose erano paludose quindi favoriscono la crescita di questi alberi e per trovarla anche c'è un trucco no queste farfalle si attirano con delle frutta in fermentazione sì 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 alcoli si birra anche sì sì un po' di alcol anche banale fermentare insomma loro piacciono le cose dolci vedete sul dito lì con la spiritromba estesa e vedete appunto che hanno questa caratteristica se non sbaglio che si attira molto bene beh adesso la vediamo perché abbiamo prima di arrivarci andiamo all'arginis l'arginis che assomigliano un po' anche queste a quel gruppo delle difetilarie quindi l'arginis che adesso si chiama speieri hai scritto tu hai curato gran parte di queste pagine o ex arginis aglaia cambiano nome in continuazione stare dietro non è facile beh questa però è una farfalla che è diventata veramente molto comune perché aumentano i boschetti a lei piace la situazione un po' mista tra parti e boschi devo dire poi che una cosa interessante di questa farfalla è che io non conosco nessuno che l'abbia allevata partendo dalla farfalla che l'abbia fatta deporre se qualcuno c'è si faccia vivo io non conosco nessuno e la lei depone sui tronchi sulle piante eccetera poi le uova schiudono vanno giù sulle piantine di viola che si trova nei piedi della vegetazione quindi è difficile creare l'abito anche accoppiarle anche il recopimento artificiale non siamo riusciti a avvicinarle neanche creando una voliera però ci sarà qualcuno al mondo che ci è riuscito è una farfalla bellissima molto comune è una festa a vederla anche molto tardi in stagione non solo d'estate che va a girare attorno ai fiori di edera che fiorisce molto tardi tardo agosto fine agosto sì sono riuscito a vederla io qui sicuramente settembre e ottobre perché i colli sono più caldi è veramente una festa e queste macchie verdi sulla pagina inferiore insomma la identifica scusate mi riferivo alla pafia io ho fatto un po' di confusione queste sono la glaia hai ragione tu hai ragione tu si trova fino alla costa la pafia ecco questa la vediamo volare veramente tantissimo questa non ama tanto i territori di pianura ho notato qui vedete la differenza tra maschio e femmina la si trova già nelle aree precolinari ma non tanto la pianura costiera non ama la pianura costiera non sono mai riuscito a trovare ecco vedete le righette qui sull'ala della femmina il maschio questo è il dimorfismo la presenza delle righe sono tipiche del maschio mentre la femmina ha solo i puntini vediamo bene qui poi da noi non ho visto tanto forme scure le valesine come si chiamano sì è la forma verde verde è una forma verde però in montagna si trova facilmente la forma più scura o marrone anche a volte verdolina verde marrone sono variazioni che si possono vedere però sui colliugani ho visto che la forma prevalente è la classica arancione meravigliosa anche questa non conosco nessuno che l'abbia allevata partendo dalla farfalla e sarebbe bello saperlo per conoscere meglio che la biologia questo è un animale anche molto interessante non è così comune da vedere no la voloria a via non è comunissima come specie ha queste macchie argento che le vedremo poi presenti molto più intense su un'altra specie che vediamo dopo e questa è anche lei arancione ovviamente insomma riconoscete per queste macchie argento faccio vedere anche altre specie la selene vedete la differenza tra la struttura delle macchie questa più grande più compadre eccetera e anche il disegno ai colori dell'ala è diversa non è difficile riconoscere una volta che avete la foto a sto punto sapendo che c'è sui colli abbiamo queste due specie qua e questa è la medaglia le cose delle macchie d'argentate è un iconino si vede c'è il sole che le riflette se c'è una giornata di sole bisogna stare attenti a fotografarla è metallo è metallo come riflette ma va proprio a a rovinare la foto sovrespone sovrespone esatto ti fa un flash praticamente allora dimorofimo sessuale non è molto evidente anche se la femmina è un po' più grande perché le uova chiaramente e tutto il resto queste macchie argentate proprio la caratterizzano anche altre specie la famiglia anche tropicali hanno spesso questa situazione monetaria altre specie però da noi non esistono è inconfondibile guardate quando alle ali aperte è tutta questa serie di puntini arancio è abbastanza grande e tra l'altro sono abbastanza riconoscibili anche ad ali aperte i suoi puntini è diversa la forma delle ali tondeggianti eccetera è abbastanza riconoscibile sì 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 e poi queste macchie grandi argento sono veramente una farfalla riconoscibilissima è molto da poco anche rientrata negli infatti perché la avevano tenuta a parte come famiglia è la Pinocchio bellissimo la farfalla Pinocchio perché ha dei palpi labiali lunghissimi ha le palpi labiali lunghissimi e vedete qui li vedete qui sono le antenne le labiali legali poi questa forma anche lei è un po' arancio questa forma particolare che sembra una figliolina sopra un po' arancio e marrone non è facile vederla però è diventata molto più comune ultimamente che sta su gli alberi di Bagolaro che è abbastanza si vede un po' di più rispetto a una decina d'anni fa allora si trova a sud dei colli più facilmente che è più termofila come specie però sta un po' dappertutto pensate che una volta mi ha bussato letteralmente alla porta di Esapris siamo a Padova e l'ho sentita proprio che grattava ho aperto la porta era lei perché abbiamo gli alberi di Bagolaro proprio qui davanti sulla via e in gennaio perché è sverna lei sverna come è dovuto e quindi la si trova anche come svernante e come comincia a fare un po' caldo è la prima che colonizza i fiori dei mandorli che abbiamo piante che fioriscono ci sono cose che potete vedere insieme alla Policloros la Vanessa multicolore e poi per il momento l'unica che la redutta perché la Camilla si può pensare che possa esserci ma non l'abbiamo mai vista la distinzione forse con la Camilla e poi con la forcella poi il disegno più bianco e anche i riflessi i riflessi azzurro violacei sono tipici che non ha questi riflessi la Camilla chiaramente non ce li ha è una farfalla che poi la vedete così bella anche l'eliminitis in generale ha questi riflessi particolari da viva ma se è in collezione tende a perdere molto spesso i bellissimi riflessi non so come mai comunque è perché sono progette situazioni organiche che si deteriorano e cambia la rifrazione e tutto là adesso arriviamo alla specie nuova che è stata assegnata sui colli che in verità è una specie diffusa a livello nazionale è il punto più a nord come popolazione del suo areale mediterraneo e vedete una farfalla grandissima quattro code due per ogni alla posteriore è la la pasciata diciamo la farfalla del corbezzolo bellissima per il momento l'abbiamo vista nel gruppo del Ceva ma sta su un'area anche molto più ampia un grande volatore potentissimo ha dei bellissimi bruchi peraltro che li potete vedere qui ve li faccio vedere che si trovano ultra mimetizzati sulle foglie che sono molto belli di piccoli draghi ha trovato chiaramente nella zona del Ceva nell'anfiteatro diciamo la zona del Cataio un ambiente ideale solleggiato pieno di corbezzoli ma sta in un'area anche al nostro Ose di corbezzoli dove in verità l'avamo segnalata nei primi anni 2000 e dopo è stata trovata questa popolazione che in verità è residente qui vedete un maschio piccolo che fa il suo comportamento territoriale su le piante che trova delle arene praticamente dove si mette lì e quando è lì si può avvicinare tranquillamente si si avvicina quasi a toccarlo a volte vi si appoggia addirittura addosso svolazza come fa molto la mani si può attirare facilmente con l'alcol infatti qualche tempo fa erano usciti su vari giornali l'uomo che sussurra alle farfalle ed era proprio col Caraxas Giasu e non faceva nient'altro che bere un po' di alcol prima e così si avvicinava sempre così il Caraxas io ho preso ovino rosso molto bello corposo messo su uno sasso caldo una mani che va birra rifiuti variogene mi ricordo l'isola di Caprera in Sardegna era pieno di bidoni fuori da Gia Garibaldi di frutta di roba che buttavano e sui colli ugani ho provato non funziona funzionerà sicuramente ma non ha funzionato assolutamente perché le farfalle si è accorto poi Luca Bolognini presi in mano puzzano di cacca loro vanno sugli escrementi animali lì c'è daini ci sono animali vanno a cercare sostanze azotate che devono assumere perché sono importanti per il loro sviluppo e le uova successivamente ecco questa è un'altra abitudine di queste farfalle di andare su escrementi e di vari animali abbiamo i cinghiali ovviamente non gli mancano poi ho visto un'altra cosa interessante che non ho visto da altre parti del suo areale da noi c'è una predazione potentissima di vespe e vedi girare sulle foglie in continuo cercano bruchi le vespe sono carnivore per loro piccole da altre parti ho visto meno pressione però con lo stesso riescono a mimetizzarsi vedete questi bruchi con la testa da drago li chiamiamo molto particolari veramente molto belli del corbezzolo allora noi ce l'abbiamo fatta siamo in perfetto orario vi ricordo il prossimo webinar gratuito possiamo rientrare anche Veronica eccoci qua Veronica ci sono novità la parte tua? no ho seguito la parte appunto di domande ma ho visto che ce ne sono state poche stasera avete già risposto benissimo e poi ci le faranno magari più avanti se continuano anche su Facebook vedete qui YouTube eccetera il prossimo è il 2 giugno ci ritroviamo con un po' di farfalle ancora un po' più difficili però faremo vedere qualche falena magari così se vogliamo qualche falena di quelle più vistose perché molte le scambiamo per farfalle ma sono falene come questa che vediamo vediamo qui in alto le ali rosse ne vedremo molte altre che molte falene volano di giorno e altre invece sono notturne ma sono molto importanti perché così sono vistose e diamo un po' un'introduzione a queste specie allora con questo ringrazio il parco regionale di Colliugani vi ringrazio a Butterfly Arc vi ringrazio a tutti i nostri naturalisti che collaborano Gianluca e Veronica e ci vediamo quindi il 2 giugno con il prossimo webinar grazie arrivederci a tutti i nostri